Abbiamo chiacchierato in esclusiva con gli sviluppatori di Two Point Campus per scoprire cosa ci aspetta nel loro nuovo gestionale ad ambientazione universitaria. Un titolo dove si passa dai corridoi degli ospedali di Two Point Hospital a quelli dell'università, un ambiente che per molte persone è ordinario o addirittura noioso, ma al quale tutti sono legati da indissolubili ricordi. Ecco come è stato declinato nel gioco. I lavori di Two Point Studios si reggono su tre pilastri ben precisi. L'attenzione per la qualità, l'essere accessibili ma anche profondi e avere un humor distintivo e pieno di freddure. Un approccio che accomuna lo studio alla vecchia Bullfrog. Sebbene condivida lo stesso DNA di Hospital, Two Point Campus vuole però rappresentare un deciso balzo in avanti e una dimostrazione che il team sia capace di evolvere e arricchire una formula che negli anni è rimasta volutamente identica. In linea con la nuova ambientazione, Campus è un gestionale decisamente più grande e stratificato. Mentre in Hospital era possibile costruire soltanto all'interno delle mura del proprio ospedale, stavolta si dà la possibilità di lavorare sugli esterni e personalizzare tutto quello che fa da contorno alle varie strutture. Si possono piantare alberi, cespugli e costruire fontane, posizionare panchine, cartelli e staccionate, e costruire su colline e pendenze per dare alla propria università uno stile assolutamente unico. Gli sviluppatori ci hanno mostrato alcuni esempi pratici, tra livelli che ricordano i campus americani o altri che si avvicinano allo stile delle tradizionali scuole europee. Dislivelli ed elementi ad angolo mascherano poi molto bene il fatto che si stia costruendo all'interno di una griglia ben definita. Gli abbellimenti non sono puramente estetici. Da un lato contribuiscono ad aumentare il prestigio della scuola rendendola quindi più appetibile per nuovi studenti, dall'altro hanno delle precise funzioni. La posizione delle strutture, i percorsi che le collegano e gli oggetti nel mezzo influenzano sia la velocità con cui gli studenti si spostano da una lezione all'altra, sia le aree del campus attorno a cui orbitano. Per rispondere alle loro esigenze e necessità bisognerà costruire campi da tennis, palestre, furgoncini per il cibo e luoghi di svago, cercando il giusto equilibrio in un'università che deve istruire in maniera efficace i propri iscritti, assicurando allo stesso tempo un ambiente piacevole dove socializzare. In Two Point Campus ritroveremo elementi economici e gestionali. Questi vanno dall'importanza di assumere personale adeguato al tenere d'occhio le finanze a disposizione, con le materie studentesche che prendono il posto delle insolite malattie viste in hospital. Inutile dire che non avremo a che fare con corsi di algebra, scienza e letteratura. Le attività saranno ben più stravaganti, come lezioni di gastronomia gigante, in cui cucinare pizze e torte dalle dimensioni colossali, oppure un corso di cavalleria dove gli studenti vestiti in armatura medievale imparano a combattere e giostrare. Nel presentare il progetto a Sega, il team ha inserito in una delle diapositive la foto di John Belushi nella famosa scena del toga party in Animal House. L'intenzione infatti è quella di riprendere lo spirito di momenti come quello, situazioni sopra le righe, portate all'estremo dall'umorismo dello sviluppatore britannico. Ci è stato dato anche un assaggio di quelle che saranno le più assurde confraternite e club che vedremo nel gioco, con tante attività che hanno l'obiettivo di strappare un sorriso e studenti che andranno in giro vestiti nelle maniere più improbabili. Ed è proprio la componente umana e formativa a rappresentare una delle novità forse meno evidenti ma più importanti di campus, con gli studenti che avranno un ruolo e una personalità molto marcati. In ospitali il paziente entrava in ospedale, faceva la sua diagnosi, si faceva curare dal dottore di turno e tanti cari saluti. In campus il rapporto è ben diverso. Ogni insegnante ha una classe con più studenti e la presenza in aula è più partecipativa e di gruppo. Poiché resteranno a scuola per diversi anni, si finisce inevitabilmente per conoscerli meglio e affezionarsi a loro. Ogni studente ha un nome e una personalità, ma anche delle esigenze particolari, dei talenti o dei tratti problematici. Oltre a gestire l'economia della struttura accademica e il funzionamento dei corsi, dovremo quindi cercare di accompagnarli nel loro percorso di studi per fare in modo che diventino la migliore versione di se stessi. Magari tra i nuovi iscritti c'è un genio ribelle con un talento fenomenale che però non ha assolutamente voglia di seguire le lezioni, dedicheremo del tempo e delle risorse per aiutarlo a far germogliare le sue potenzialità, oppure preferiremo mandarlo a casa per dedicarci ad altri aspetti del campus. Questa componente umana e morale, appena sfiorata nella gestione del personale di hospital, potrebbe esplodere in campus, rendendolo un gioco molto più stratificato e capace di creare quell'empatia che, in forma molto più chiara e diretta, vediamo in opere come The Sims. Rispetto all'episodio precedente, Two Point Campus promette un ventaglio molto più ampio di personalizzazioni, tra oggetti disponibili e opzioni per abbellire gli edifici e gli ambienti interni ed esterni. È in sostanza un gioco molto più ricco. L'ambientazione universitaria è originale, ha un potenziale innegabile. Anche se non mancherà quel mix di accessibilità, humor e microgestione tipico dello studio, stavolta parte del divertimento sembra sarà legato al wireismo verso le attività quotidiane degli studenti e l'interesse verso i loro progressi. L'obiettivo non sarà solo quello di costruire e gestire l'università più prestigiosa, ma anche aiutare questi giovani pupazzi digitali ad avere un'ottima istruzione e un periodo scolastico che non dimenticheranno mai. Voi cosa ne pensate delle idee alla base di questo progetto? Siete curiosi di vedere come verranno messe in pratica? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Grazie per aver guardato fino a qui!